Grazie ai donatori, l'Unione Italiana Cechi e Ipobedenti di Prato ogni anno dà vita a grandi progetti. Quest'anno ha fondato il primo club al mondo di lanciatori di coltelli. Alla f***! Ci manca la vista, non la voglia di sorridere. Il 5x1000 si avvicina, dono anche tu per dar vita a nuovi progetti.